Grazie Presidente, semplicemente per dire che questa delibera ovviamente è stata esaminata nella Commissione urbanistica e rispetto all'intervento che mi ha preceduto devo dire che non si tratta di nessun tentenamento o cambiamento di posizione da parte dell'amministrazione perché la delibera veramente noi non ci aspettavamo neanche che ci ritornasse in Commissione semplicemente perché da quanto ci hanno rappresentato gli uffici è stato il frutto di una nota inviata dalla Regione che ha chiesto una rettifica di procedere con la stessa identica delibera che abbiamo già votato in Aula precedentemente soltanto con una procedura differente proprio perché non c'erano gli elaborati grafici a supporto di come dovrà diventare l'ex fiera perché come sappiamo tutti nella delibera che abbiamo votato precedentemente si parla di un concorso quindi un qualcosa che vedrà sicuramente la partecipazione dei cittadini di un tavolo che vedrà il coinvolgimento dei cittadini del municipio qualora si attiverà la procedura del concorso. Noi siamo qui soltanto a dire che oggi così come la delibera ci è arrivata in Commissione la variante è in funzione dell'articolo della legge urbanistica 1150 del 42 non come era stata impostata precedentemente quindi nessun tentennamento e nessun cambiamento di posizione perché la delibera resta identica a quella che già abbiamo votato. Grazie